La luce della vita. Carissimi lettori, lo Spirito Santo nel messaggio che segue continua a parlarci del momento della nostra creazione. Sottolinea ancora una volta l'importanza delle nostre scelte sia nel momento iniziale che nel corso della vita terrena. Ci parla anche delle leggi che regolano la creazione e la nostra stessa vita. Dal messaggio emerge tutta la grandezza dell'amore di Dio, la sua nobiltà e bontà. La potenza creatrice della Santissima Trinità ci chiama alla vita e ci sostiene in ogni istante della nostra esistenza terrena e non solo. Ci introduce nell'eternità avvolgendoci della sua luce. Spetta a noi mantenere vivo il contatto con Dio, mediante la fede, per vivere in armonia con le sue leggi. Così diventiamo veri figli di Dio. Vi auguro di scoprire la vita di Dio in voi e di lasciarvi riempire della sua luce, affinché ciascuno sia colmo della potenza divina che crea e ricrea ogni cosa e ci rende testimoni della sua grandezza. Così tutti insieme diventeremo il vero popolo di Dio, regale e sacerdotale, quel popolo che Dio desidera. Vi saluto e vi benedico in Cristo. Messaggio dello Spirito Santo del 29 febbraio 2012. Vi saluto e vi benedico. Desidero continuare con voi il discorso sulla vita umana che è di grande importanza per ciascuno di voi. Vi ho spiegato che la vostra esistenza ha origine dalla grande vibrazione della vita che Dio imprime in voi al momento in cui vi crea. In questa vibrazione è contenuta la potenza divina creatrice della Santissima Trinità. È l'impulso primario che dà inizio all'esistenza di ogni essere vivente, come tale comprende in sé l'azione delle tre persone divine. Da questo istante cominciano ad operare in voi le tre grandi leggi dell'universo, la legge della luce, del suono o vibrazione e del calore. Sono leggi spirituali e naturali al contempo e sorreggono l'intera creazione. La vibrazione della vita non esaurisce la sua azione nel momento della creazione, ma si rinnova ad ogni istante della vita. È quindi necessario che sia continuamente alimentata perché nessun essere vivente potrebbe farne a meno. Così, dopo il primo impulso simile a una grande scossa che dà origine all'essere, la vibrazione della vita si rinnova incessantemente mediante l'azione specifica di ciascuna delle tre persone divine. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, seconda persona della Santissima Trinità, mantiene costante l'intensità della vibrazione della vita. Gesù, Verbo di Dio, con la sua parola che riempie l'universo, imprime continuamente in ogni essere creato la vibrazione del suo amore. L'amore di Cristo rigenera perché redime e vince il male delle creature. Sostiene ogni essere vivente, angeli, uomini e tutte le creature. La vibrazione che emana dal Figlio di Dio e che viene trasmessa all'intera creazione è l'espressione più sublime dell'amore del Padre perché il Figlio vibra all'unisono col Padre nello Spirito Santo. Se Gesù non comunicasse più il suo amore all'universo, questo cesserebbe di vivere. L'amore di Gesù vibra in ogni punto dell'universo e raggiunge ogni essere vivente. Contiene tutta la potenza necessaria ad alimentare lo Spirito, l'anima e il corpo dell'essere umano. La sua intensità è proporzionata alla struttura di ogni singolo uomo, ma anche alla sua risposta al momento della creazione, nonché alle scelte di vita. Ciò significa che l'uomo, il quale pronuncia un sì convinto a Dio all'inizio, accoglie Gesù Cristo e rimane fedele a Lui. Riceverà una vibrazione di maggiore intensità che lo sosterrà nello svolgimento della sua missione. Al contrario, l'uomo che non accoglie né Dio né Gesù Cristo riceverà una vibrazione più debole, non perché Dio lo punisca, ma perché il suo spirito sarà più chiuso e perciò incapace di ricevere una vibrazione troppo potente. Sarà come un contenitore piccolo che rischia di rompersi se troppo pieno. Dio rispetta la vostra libertà. Sappiate però che l'uso della libertà ha un prezzo e dovete essere consapevoli delle conseguenze di ogni vostra scelta. Spesso invece fate scelte sbagliate perché volete essere liberi e indipendenti da Dio. Poi ne subite le conseguenze e mormorate contro Dio come se fosse Lui il colpevole delle vostre scelte. Ma non è così e lo sapete bene. Perciò non siate ipocriti e assumetevi la responsabilità delle vostre scelte e delle conseguenze che ne derivano, altrimenti rimarrete immaturi, indecisi. Nella vibrazione della vita è compreso anche il calore che emana da me, lo Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità. Il calore è l'elemento che permette alla vita di sbocciare e di mantenersi ininterrotta. Sapete bene che senza il calore del sole la vita sulla terra cesserebbe. Lo stesso avviene nel vostro spirito, nell'anima e nel corpo. Senza il mio calore che trasmette amore, intelligenza e forza sareste come fantocci inanimati. Il mio calore vi avvolge e guida ogni processo biologico del vostro essere fin dai primi istanti di vita. Alimenta la vostra intelligenza e vi indirizza verso Dio, vi apre alla conoscenza del mistero della vita così come è in Dio e vi protegge dal male. Anche il calore che ricevete da me è proporzionato alle vostre scelte, sia al momento della creazione, sia durante l'esistenza terrena. Più siete uniti a Gesù, più io posso agire in voi perché la mia opera non è mai disgiunta da quella del figlio di Dio. Perciò quando offrite la vita a Gesù Cristo attraverso il cuore immacolato di Maria mi permettete di agire pienamente in voi e io vi oriento continuamente a Cristo perché siate riempiti del suo amore. A sua volta Gesù mi manda a voi incessantemente ed insieme Gesù e Dio offriamo la vostra vita al Padre perché vi doni la sua luce. Desidero soffermarmi in particolare sulla luce della vita che emana dal Padre. Essa è il suo sigillo posto su ciascuno di voi e vi accompagna nella vita terrena e nell'eternità. Anche la luce del Padre è impressa in voi al momento della creazione mediante la grande vibrazione della vita ed è commisurata alle vostre scelte. Se avete scelto Dio avrete più luce altrimenti ne avrete di meno. Cos'è la luce? È intelligenza, consapevolezza dell'essere figli di Dio, è verità e santità, è la percezione chiara dell'immagine di Dio in voi. È anche potenza spirituale che vi fa sovrastare le forze del male e vi rende vittoriosi nelle prove. È gioia e pace. La luce di cui parlo è anche una realtà fisica presente nell'universo ed è ciò di cui è fatta la grande barriera del cielo. Sì, la grande barriera non è altro che un'immensa fascia di luce di enorme potenza. Solo gli spiriti puri la varcano e le anime dei defunti. Le forze oscure del male non possono invece oltrepassarla e neppure le creature se non quando Dio eccezionalmente lo permetta, come avviene nel caso delle umanità dell'universo fedeli a Dio. Subito dopo aver ricevuto la prima grande vibrazione che vi chiama alla vita, la luce comincia ad agire nel vostro spirito. La sua azione è indispensabile perché siete chiamati a decidere già al momento della creazione se servire o meno Dio. Perciò vi è data la luce fin dal primo istante, affinché si apra la vostra intelligenza e possiate scegliere. Dopo aver fatto la vostra scelta, Dio vi immette nella realtà nella quale vivrete. Doverete perciò passare attraverso la grande barriera. Così dalla dimensione del puro spirito scendete nella realtà materiale dove inizia la fase della vita nel corpo, sulla terra o altrove. Un corpo mi hai preparato. Sta scritto. Ed è così. non cercate adesso di capire razionalmente se Dio crei prima lo spirito e il corpo perché non ci riuscirete. Non perdetevi nelle vostre astruse filosofie perché il pensiero di Dio non ha nulla a che fare col vostro ed egli ha il potere di pensare e creare in un solo istante tutto ciò che vuole. Dio nel pensare crea. In Lui non esistono schemi definiti. Il suo pensiero è libero. Il passaggio attraverso la grande barriera è un grande passaggio nella luce perché tutto il vostro essere viene illuminato. Così Dio vi mostra con chiarezza ciò che avete scelto al momento della creazione e ciò che vi attende nella vita come conseguenza della vostra scelta iniziale e vi indica chiaramente la strada di Cristo quale unica strada che può correggere le scelte sbagliate e che un giorno vi permetterà di tornare a vivere in pienezza nella dimensione spirituale. È un ulteriore aiuto da parte di Dio che è dato a tutti indistintamente, a coloro che hanno scelto Dio come a coloro che lo hanno rifiutato. Lo stesso passaggio nella luce vi attende al termine della vita terrena poiché anime dei defunti oltrepassano la grande barriera per entrare nella dimensione del puro spirito. Così come all'inizio vi viene mostrato tutto ciò che vi attende così alla fine vi è mostrato ciò che avete fatto. Anche questo è molto importante perché in tal modo Dio dà ad ognuno la possibilità di riconsiderare il suo comportamento e di accogliere pienamente la salvezza che Gesù Cristo gli offre. Anche coloro che nella vita hanno rifiutato Dio e agito in modo contrario alle sue leggi hanno la possibilità di pentirsi. La luce della barriera mette a nudo ogni cosa e mostra quello che ciascuno è di fronte a Dio. Qui non servono più le discussioni né le giustificazioni perché la luce di Dio vi mostra ciò che realmente siete e ciò che avete compiuto nella vita. Così la misericordia di Dio vi viene incontro e vi prepara a ciò che vi attende nella dimensione dello spirito nel paradiso o nel purgatorio e cerca in ogni modo di evitarvi l'inferno. Anche qui tutto dipende dalla vostra scelta e dal giudizio particolare che vi attende. Vi parlerò di tutto questo prossimamente perché c'è molta confusione al riguardo anche fra i cristiani. Per ora è sufficiente che comprendiate bene questo. Con la morte si chiude solo una fase della vita, quella nel corpo, e se ne apre una nuova nella dimensione dello spirito che è la dimensione eterna. Mentre vivete nel corpo, se avete fede in Dio e in Gesù Cristo e se progredite nel cammino della fede, la luce che avete ricevuto da Dio e che è racchiusa in voi potrà aumentare. Infatti la luce è direttamente proporzionale alla fede. Più credete, più sarete avvolti dalla luce. Di conseguenza anche la vibrazione dell'amore di Gesù aumenterà e così il calore dello spirito santo. Tutto dipende, come sempre, dalla vostra fede. Le leggi della luce, della vibrazione e del calore sono dunque impresse in voi fin dal concepimento. La vostra fede e la sincera adesione a Cristo mediante l'offerta della vita a Lui determinano il funzionamento corretto ed efficace di queste tre leggi, che sono le leggi della vita. Esse dispiegano i loro effetti non solo a livello naturale, ma anche spirituale. Allora la luce diventa sapienza e intelligenza, la vibrazione parola e azione, il calore, amore e santità. Così crescono la fede, la speranza e la carità. Il vostro spirito è costantemente alimentato, l'anima rafforzata, il corpo è sano e armonioso. Diventate così veri figli di Dio. Tutto questo vi sembra forse un'utopia? Lontana dalla triste realtà della terra? Vi dico che non è così. Anche se il male sembra prevalere sul vostro pianeta, l'azione di Dio è costante e silenziosa nel vostro spirito. Se donate la vita a Gesù attraverso il cuore immacolato di Maria, affidando a Lui tutto il vostro essere, Egli farà sì che le leggi della vita funzionino in voi, al di là di ciò che potete comprendere. Non spetta a voi far funzionare le tre leggi di cui parlo. Non ne sareste neppure capaci. A voi tocca solo aprire le porte a Gesù, affinché compia in voi la sua opera insieme a me, lo Spirito Santo. Sarete protetti e aiutati in tutto e già ora sperimenterete l'appartenenza ad una dimensione nuova, quella dello Spirito che vi attende al termine della vita terrena. Non risolverete i vostri problemi spirituali e fisici fino a che non vi affiderete totalmente a Dio. Solo così potrete sconfiggere il male che tenta in ogni modo di alterare in voi l'armonia delle leggi divine. Quando Dio sarà il Signore della vostra vita, allora anche voi potrete dominare le forze avverse e regnare con Cristo già qui sulla terra, elevando a Lui tutto ciò che vi appartiene e vi circonda. Non dimenticate che siete un popolo regale e sacerdotale, perché, uniti a Cristo, partecipate pienamente alla gloria di Dio, la gloria che Egli ha posto nei Suoi figli. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.